Germano Buttazzo, Sales Manager di LinkedIn. Oggi gli ingegneri continuano a essere tra le figure più cercate in Italia? Sì, diciamo che da uno studio fatto nello specifico sull'area dell'Inter milanese, quindi abbiamo un dato a livello nazionale. Le figure tecniche risultano ancora oggi quelle più ricercate, nello specifico le figure in ambito IT, quindi con competenze informatiche. A volte si nota un disallineamento tra domanda e offerta, cioè le aziende non trovano i professionisti che cercano quando in realtà ci sono. LinkedIn può dare una risposta? Ci sono accorgimenti che si possono seguire affinché questo non avvenga? Sì, nel senso che LinkedIn conta oggi 575 milioni di iscritti al mondo e più di 12 milioni di iscritti in Italia, quindi abbiamo una rappresentatività intorno al 50% della forza lavoro in Italia, quindi direi che le aziende che utilizzano LinkedIn come piattaforma per cercare le professionalità di cui hanno bisogno hanno un ampio bacino dal quale attingere. Grazie a tutti.